Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova edizione dei saggi online della Scuola di Musica del Garda. È con piacere che oggi vi presentiamo non un saggio di pianoforte ma un saggio di violino, i violinisti della nostra bravissima maestra Maddalena Fasoli. Sono pronti anche loro per la loro esecuzione, li vedi di fronte a un pubblico molto vasto, quindi sono molto agitati e quindi direi di non perdere altro tempo e di fare partire subito il saggio. Ah, ok, questi violinisti a volte si dimenticano dei pezzi. Possiamo dare pure via alle danze. Iniziamo il saggio di violino. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.